Ciao, benvenuti a questo nuovo allenamento! Allenamento per tonificare, snellire il tuo corpo e dimagrire! Magia, vero? Lascia subito il tuo like e preme il campanello così ogni volta che io pubblico un nuovo allenamento sarai notificata e non perderai niente! Primo esercizio che faremo oggi è un esercizio per le gambe come sempre e il movimento è questo qua squat sumo dove fai vai giù dietro avanti avanti scendo dietro avanti avanti sempre facendo questo movimento deve stare attenta a non andare in avanti con le ginocchia per non caricare il peso sulle ginocchia invece portare bene sui glutei ok se sei ancora principiante fai solo questo su e giù qua così va bene uno squat sumo normalissimo secondo esercizio andremo giù a terra e faremo un movimento per le braccia e 1 2 tocco hop piego a lungo tocco ok quindi il movimento principale questo delle braccia mi fermo in tensione vado a toccare il piede se sei principiante fai solo le braccia e riposati ogni volta che hai bisogno ok secondo esercizio torno in piedi terzo scusa torno in piedi e faccio l'altra gamba e per concludere mi metto nella posizione del front plank braccia tesa stringo bene il bacino nel senso che non in arco la schiena ma tengo dentro l'addome e quando sono qua vado a toccare la spalla ok se sei principiante stai solo qua così ferma e riposati ogni volta che hai bisogno i su un bel respiro espira vai su espira ultima volta vai su allunga bene 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 allunga il cambio laterale da un lato e cambio laterale dall'altro muovi adesso le spalle e poi anche le gambe 1 2 1 2 1 2 vai vai perfetta così metti subito un sorrisone sulle labbra vai 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 ok guarda così tocco 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 vai hop 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 riscalda bene vai 1 2 1 2 vai 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 le mani le mani vai su e giù su 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 così meraviglia vai vai ancora 4 hop 3 vai 2 molto bene ok gamba dietro 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 vai così hop hop e 1 2 e mentre vai con le gambe dietro piego anche le braccia laterale così piego 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 sorriso ce l'hai tutto il tempo eh bisogna sorridere anche quando soffrirai col sorriso ok perfetto guarda avanti su 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 vai ancora hop 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 su 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 bravissima ancora vai 1 2 1 2 1 2 gomito alto hop 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 Adesso avanti e dietro, avanti, muovi le braccia qua, vai, diagonale, hop, e hop, vai, un, due, uno, riscaldando bene braccia, gambe, sul ginocchio, e su, vai, su, dietro, su, hop, su, vai, su, e su, perfetta. Su, ok, vai piccolino qua, su, 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 ancora, vai, 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 4, 3, vai dall'altra parte, avanti, dietro, avanti, dietro, hop, e solo così, solo così, vai, muovi il ginocchio, vai, su, Sono gli ultimi 30 secondi, eh, vai, e su, respira, vai, poi si parte, bravissima, piccolino ginocchio, su, 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 col sorriso, 4, e 3, vai, 2, e stop, go, scendo, dietro, avanti, avanti, 1, 2, 3, 4, hop, fai questo molleggio qua, eh, vai, 1, 2, 3, 4, hop, 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 stop. Veloce, vero? Ti sei divertita? Certo, Elayne. Pronta, vai, piego, allungo, tocco, torno, 1, 2, 3, 4, hop, e vai. Le dita, se ce la fai, girate verso i glutei, vai, 1, 2, vai, hop, stop, perfetto. Subito fare la sinistra o la destra, non cambia niente, vai, 1, 2, 3, basta che fai la gamba contrario, ovviamente, eh, una volta per uno, vai, 3, 4, scendo, dietro, scendo, avanti. Sempre con questo molleggio, si sentono le gambe, vero? Pronta per il plank? Vai, dentro l'addome, tocca la spalla, vai, tocco, 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 respira, vai, 1, 2, 1, 2, vai, ok. Primo giro, se fue, eh, ne faremo 3, va bene? Respira, 1, 2, 3, vai. Sorridi, io ti vedo, eh, ora, 2, cosa fai con quella faccia imbronciata? Eh, non serve a niente, vai, 1, ah, non è imbronciata, è faccia da dolore, ah, ho capito, dolore, va bene. Vai, 1, 2, tocco e scendo, vai, respira, vai, vai, piego, allungo, piego, allungo, stop. Ok, cambiamo la gambuccia, vai, 1, 2, 3, vai, hop, 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 ehi, 1, respira, vai, 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 Ah, che male, alle gambe, vai, vai, dentro i glutei, forza, sguardo a terra, respira, le mani allineate con le spalle, e, sempre respirando, vai, sempre respirando, vai, stop, come è? Non ci crederai, ma è già l'ultimo giro, vai, 1, 2, 3, hop, dietro, avanti, sempre questo molleggio, ah, e il sorriso, stop, e linea come faccio a sorridere se mi bruciano le gambe? Tu sorridi, vai, 1, 2, tocco e scendo, vai, respira, vai, vai, piego, allungo, piego, allungo, stop. Ti è venuto un po' di calduccio? Via, scendo, 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 vai, 1, 2, 3, respira, che bello, vai, stop. Oh, come è? Vai, dentro i glutei, questo è l'ultimo, fallo bene, forza, vai, 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 tocco, tocco, vai, Bravissima, ma proprio brava, brava, puoi fare i complimenti a te stessa, come ti senti? E guarda che come ci vuole poco per attivare proprio tutto il corpo, vero? È troppo bello, troppo in fretta si fa. E adesso non hai più scuse per non fare ginnastica, eh, mi raccomando. Ti ricordo che questo non è un allenamento completo di 20 minuti, ma è un assaggio per farti capire come in pochi minuti puoi già attivare il tuo corpo. Per farti vincere la pigrizia, la mancanza di tempo, l'incostanza, eh, sono questi allenamenti così brevi e intensi che ti servono. Vai, allunga bene, se le gambe non stanno dritte puoi piegare le ginocchia, spingi il petto verso il pavimento, respira, palmo delle mani a terra. Bravissimo, piegare le ginocchia e con calma srotolando il tronco, vertebra per vertebra, torno su piano, piano e piano. Dimmi la verità, è una magia, vero? Rilassa le spalle, inspira e cambio, vai. Perfetta, così, porta il talone ai glutei e allunga bene, così. Senti allungare la coscia, se hai bisogno di equilibrio puoi aprire il braccio, appoggiare il muro, poi però lavora, eh, nel senso che adesso magari non hai l'equilibrio, ma la prossima lezione ci lavori un po', cerca di ottenere questo equilibrio, quindi sei lì un po' che traballi, ma prima o poi arriva, eh? respira, respira, perfetto, rilassa le spalle. Allunghiamo anche la spalle, perché quando facciamo il plank succede che mettiamo un po' in tensione anche le spalle. Vai, tieni bassa la spalle, la stessa linea dell'altra, ti senti allungare questa zona qua, spalle, dorsali. Ok, dai, stesso movimento dall'altra parte, sto un po' litigando col microfono, vediamo, vai, respira. Ok, appoggio la mano, sguardo a terra, senti allungare. Ok, cambio, appoggio, sguardo a terra. Così, sei bravissima. Perfetto. Allora, prima di concludere, ti dico, ti ricordo di mettere subito il tuo like, attivare il campanello, così che ricevi le notifiche ogni volta che io pubblico un allenamento, ok? E così non rimarai fuori, va bene? Bene, fai un bel respiro, fuori, su bene, espira. Ultimo, fai su, fuori l'aria. Un bel inchino e grazie mille! Sei bravissima! Un bel inchino e grazie mille! 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 Un bel inchino e grazie mille!